Quando? Il 21 settembre. When? The 21st of September. Cosa? Bocconi Live Day. What? Bocconi Live Day. Dove? Proprio qui, in Bocconi. Where? Here, at Bocconi. Come? In diretta su Facebook. How? Live on Facebook. Hai capito? Yeah, September 21st. Bocconi Live Day. Live on Facebook. Ci siamo anche noi. Non lo so, guidoci. Grazie.